Benvenuti allo scialacquatore di ottobre, partiamo subito con sigla Eccoci qua, parliamo quindi di tutto ciò che ho acquistato, ho ottenuto gratuitamente o tramite il pagamento di canoni di qualche tipo durante il mese di ottobre. Vi avviso subito che i giochi non sono pochi, però cercherò di andare abbastanza velocemente Partiamo con un trittico, anzi quattro giochi che ho trovato a un prezzo molto scontato in una pessima catena di distribuzione e sono quattro titoli per PS4, parliamo di Wasteland 2, la versione rimasterizzata The Heavy Rain Collection che contiene anche Two Souls e quindi io che ho giocato solamente Heavy Rain potrò giocare finalmente all'altro titolo di Quantic Dream e il terzo titolo è Doom, la versione uscita recentemente, quindi il reboot o quello che è il nuovo Doom Poi andiamo verso i titoli gratuiti ottenuti durante il mese grazie a Gold, Plus e eventuali regali Abbiamo Super Mega Baseball Extra Innings che è un gioco di baseball su 360 se non sbaglio o One, comunque è retrocompatibile quindi è giocabile su uno dei due macchinoni Non è un gran che però l'ho scaricato, l'ho provato Paladins che è la versione PC, cerche di emulare in realtà È una specie di clone di Overwatch ma comunque rimane un gioco molto piacevole Che sto giocando ogni tanto, raramente con gli altri del gruppo CL, JUG, quando ci sono Comunque è un giochino che vi consiglio di provare, è gratuito E poi ho scaricato MX vs ATX Reflex Un gioco, se non sbaglio, di biciclettati E Fallout Shelter che ho trovato sul mio launcher di Bethesda gratuitamente Chiaramente perché è gratuito anche il titolo presente sui mobile E quindi è gratuito anche questo qui su PC Un gioco veramente carino, non facile, non troppo difficile Però che ti dà da pensare Andiamo avanti Ho scaricato gratuitamente Banjo-Kazooie Nuts & Bolts Un gioco di Banjo-Kazooie Non credo sia compreso nella Rare Collection O forse sì, comunque un gioco che merita Poi sono andato su The Elder Scrolls Online La versione MMORPG del grande classico di Bethesda Elder Scrolls È qualcosa di diverso rispetto a Skyrim Anche se riprende molti asset da Skyrim È online e giocabile quasi interamente in single player tuttavia Quindi un gioco piacevole Ho giocato pochissimo Io comunque non sono un super esperto di Elder Scrolls Ma l'ho trovato piacevole quel poco che ho provato Poi ho comprato Impara con Pokémon avventure tra i tasti E questo l'ho fatto solamente perché per 7€ Da Comet La tastiera Bluetooth ti arriva in casa E quella tastiera Bluetooth è fenomenale Funziona benissimo Si può agganciare tranquillamente all'iPad o Android Tramite Bluetooth appunto L'unica particolarità, l'unica pecca È che mancano i tasti funzione F1 da F1 a F12 Cosa che in realtà non fa così tanto la differenza Ecco, se cercate una tastiera Bluetooth Senza troppe pretese ma non malaccio Per poter scrivere sul vostro tablet Probabilmente conviene più comprare Pokémon a 7€ Piuttosto che andare su una tastiera venduta come ultra megafiga da almeno 50€ Andiamo avanti con i regali Transformer Devastation Che sembra molto interessante Resident Evil Che è la versione rimasterizzata in HD E sti cazzi di Resident Evil E poi Mad Raiders Altro gioco regalato sempre su 360 è From Dust Che io ricevetti il regalo da Syl Ciao E da Fra Ciao E che comunque adesso ho anche qui Poi andiamo avanti Intanto che vi faccio vedere le orecchie di Mochi Che compaiono in sovraimpressione Code Realize Guardian of Rebirth Che non so esattamente cosa sia Ma è stato regalato Quindi non si sputa mai nel piatto in cui si mangia Poi ho trovato Capitan Toad a Carrefour a un prezzo molto vantaggioso 14€ e l'ho preso Altri giochi regalati Actual Sunlight Dungeon Keeper Il primo Dungeon Keeper Bellissimo Gioco meraviglioso The Escapist Che ha una meccanica molto interessante E richiede di fuggire da delle prigioni Scriptate Ma che hanno Mettono a disposizione tantissime vie di fuga Quindi tantissime possibilità di azione I Am Alive Che dovrebbe essere un survival Che ho visto anche Se non sbaglio da qualche parte Da Felox forse Che saluto Ciao Felox Altro gioco che ho scaricato su Wii U È Lost Rivers Che ho già provato in beta A tempo fa E potete trovare un video Di Road to Release Un gioco bruttino Bruttino forte Ma è gratuito E Io spero ancora In qualche evoluzione Però Per il momento Non mi faccio troppe Idee strane Poi ho ricevuto Gwent The Witcher Car Game Da Bethesda È una beta Chiusa Quindi bisogna avere La chiave Per poter giocare al gioco E il gioco è molto carino Vi consiglio di seguire I gameplay Let's play Di Rotus Che fa sul suo canale Con un'alta frequenza In questo periodo Perché vi fate un'idea Di come il gioco Di quali sono le strategie Da portare avanti Insomma Bei video E gioco Bello Che si va a inserire Nel filone Dei giochi di carte Come The Elder Scrolls Legend E Il Molto bello Hearthstone Dando avanti Sempre in tema di regali Batman The Telltale Series Episodio 1 Era il regalo E io mi ci sono affiondato sopra E chiudiamo la carellata di acquisti In questo caso Un acquisto Del mese Con un gioco In realtà Un season pass Che ho acquistato In digitale Grazie ai sconti doppi E sconti anche con plus Ossia The Evil Within Season Pass Che contiene Tre Nuovi episodi Mi interessava solamente Un paio di questi episodi Mi interessavano parecchio Uno Il primo Molto L'ultimo di meno E se volete Saperne di più Vi consiglio di andare a vedere Il video Di La Freccia Blu Che ha fatto un bellissimo video Abbastanza lungo Ma anche profondo Legato a questo gioco E ai DLC Con questi ho finito Ho finito anche La disponibilità Nella carta di credito Ci vediamo al prossimo mese Ciao